Il 19 novembre il processo ai sette componenti della Commissione Grandi Rischi andrà in cassazione per il terzo grado di giudizio. Sarà dunque la quarta sezione penale della Corte Suprema a ripercorrere ciò che accade all'Aquila in quella tristemente nota riunione del 31 marzo del 2009, dopo sei giorni soltanto la scossa mortale. Durante questa riunione gli esperti della Commissione, secondo le accuse confermate in primo grado, ma poi smentiti in appello con sei assoluzioni e una condanna ridotta, diedero delle rassicurazioni ai cittadini aquilani, generando un comportamento e decisioni che poi hanno portato alla morte di tanti, troppi. È stata l'avvocato Maria Grazia Piccinini, mamma di Daria Rambaldi, una delle tante vittime del sisma aquilano, a promuovere a Roma un dibattito in programma il 13 novembre, dal titolo verso la Cassazione. Il 19 novembre invece, prima dell'inizio del processo in piazza Cavour a Roma, ci sarà un flash mob, Bianco Innocenza, un fiore per la giustizia. Un processo, quello alla grandi rischi, che ha assunto una connotazione internazionale, in quanto ritenuto in modo completamente sbagliato, un processo alla scienza, dato che alla riunione presero parte autorità scientifiche che avrebbero potuto evitare la catastrofe semplicemente mettendo in allerta i cittadini, partendo sempre dal fatto che un terremoto non si può prevedere. Tanti relatori che prenderanno parte al convegno, tra questi anche gli avvocati di parte civile, Bagna della Vigna e Antonio Valentini, quest'ultimo autore del primo esposto che ha dato il via libera all'inchiesta.